Ciao a tutti e bentornati su Star Wars Forza Arena Oggi vi mostrerò 4 deck, 2 dell'Alleanza e 2 dell'Impero che secondo il mio modesto parere diciamo che spaccano abbastanza i culi Dunque partiamo da quelli dell'Alleanza Allora, questo è col Capitano Cassian Ovviamente come ogni classico mazzo Questo ha un stun, un paio di AOE Lo stun è dato dalla granata stordente I due AOE sono la mina Ioni e il granatiere qua Poi il Capitano Cassian Avendo questa sua passiva fighissima che aumenta di 1 Il raggio di tutte le unità che hanno attacco a distanza Vi farà avere il vostro granatiere che spara a 1 in più di distanza Ed è tanto, fa molto molto la differenza Ovviamente poi tutte le altre unità che metto come contorno Sono gli esploratori ribelli e i soldati ribelli Servono comunque perché essendo ranged Riescono a sfruttare appieno la passiva del loro leader E poi il buon K2 Oltre ad avere una salute decente Schernisce il nemico Quindi lo possiamo quasi considerare come un secondo stun Perché almeno che non sono unità che vanno dirette contro la torretta Quindi diciamo per l'impero c'è il camminatore No, attualmente Tutte le altre unità si girano verso K2 e sparano lui Quindi dandovi la possibilità di eliminarle Di cleararle bene O magari con una bella mina Ioni Infatti diciamo come combo è buona Diciamo Questo mazzo poi La particolarità è che è molto molto basso È quello che attualmente Che io uso Che ha il più basso consumo di energia È 3,1 Io non so come siete abituati voi Ma io penso che 3,1 È proprio il minimo Minimo che serve per fare un mazzo Altrimenti Se andate su quelli Un pochettino Meno costosi poi Con consumo di energia Inferiori Diciamo Non avrete magari poi unità Abbastanza grosse No Per essere incisive negli scontri Quindi Diciamo Con questo mazzo Io mi sto trovando molto bene attualmente Perché è uno dei due miei principali Che utilizzo L'altro Che vi mostro Dell'alleanza È quello con Han Solo Lui l'ho usato Per un periodo All'inizio Quando ho cominciato a salire di classifica Poi però Avendo avuto Diciamo Dall'altra parte La fortuna di trovare Le carte di K2 Del capitano Cassian E portandole al livello 2 Ho preferito optare Per questa scelta Ma all'inizio E comunque Diciamo Per una buona parte Dell'inizio Che ho cominciato a giocare Da quando ho cominciato a giocare A questo gioco Siamo Mi ha accompagnato Il buono Han Solo Allora Diciamo che Questo mazzo è particolare Perché Non avendo trovato Chewback all'inizio No Mi sono dovuto Un pochettino Arrangiare E Diciamo Questa è anche Una combinazione Abbastanza buona Come sempre C'è un tank Uno stun Poi due attacchi ad aria No Dati dall'ala X Ed è sempre Dal buon granatiere Che penso Cioè È onnipresente No Poi in più Io C'è il guscio di spostamento Ribelle Che vi permetterà Di attaccare direttamente La torre No Perché farà uscire Un guerriero Dresselian Che Anche lui Ha un attacco ad aria Quindi diciamo Che anche questo mazzo Ha Tre Tre vie di attacco ad aria Tra cui Tra cui poi dopo Bisogna contare anche L'abilità speciale Di An Solo Che è la mina anti-uomo Che va bene Sia per uccidere le unità Ma anche per Distruggere le torri Perché Se la mettete Sull'edificio Esplode subito Che questa è una figata Quindi Con questo mazzo Nonostante non abbia Il compagno Di An Solo Che sarebbe Ciubecca Diciamo che mi sono Trovato parecchio bene Anche perché Ciubecca Io ho visto Costa 5 E Anche Andarlo a mettere Magari Qua All'opposto Il guscio Mi andrebbe a costare 3,6 Cioè Il costo medio Il consumo Medio di energia Che Diciamo È l'altro limite Che cerco di non superare No Infatti come Diciamo Il massimo Che è 3,6 E proprio Altrimenti Poi vi trovate In situazioni Dove Non avete L'energia Per schierare L'unità E può essere Un dramma 3,1 3,6 Comunque Ve li consiglio Sempre Diciamo Adesso Passando Per l'impero C'è il direttore Orson Krennic Con il leader Del squadrone Della morte Allora Secondo me Anche qui Secondo Il mio modesto Parere Il leader Dello squadrone Della morte È uno Tra i compagni Più forti Da poter mettere In gioco Perché Fa Spara Vabbè Spara da lontano Richiama i soldati Della morte Se voi Lo schierate bene All'inizio Della partita Cioè che lo schierate Proprio in fondo In fondo Alla mappa Della vostra parte Lui nel tempo Che arriva In mezzo Avrà tempo Di richiamare Due volte I soldati Quindi avrete Quattro soldati Che girano I primi due Corrono Essendo che vanno Più veloci Diciamo Del leader Andranno avanti Quindi Già incominceranno A mettere pressione In più Se poi Viene Viene lasciato Diciamo Libero di fare Vi continuerà A sponare A sponare Queste unità Che sono devastanti Perché Perché fanno danno Ad area Ed è molto figo Comunque Continuando in questo mazzo Anche qui Come ho detto Qui avete Ci sono addirittura Uso addirittura Tre Tre unità Che fanno danno ad area Come ho detto Il leader Dello squadrone Dello squadrone Della morte Il cavalcatore E poi vabbè Il classico Cacciatai Lo stun Questo c'è sempre Come tank Io ho deciso Di utilizzare Il veicolo Leggero Perché Comunque Mi tiene Su tre Quattro Il costo Di energia Volendo Al posto Del veicolo Leggero Potete andare A mettere Il camminatore Che il camminatore Costa sette E vi fa arrivare Il costo A tre Sette Su questo Però Diciamo Qui entra in gioco L'abilità Da leader Perché anche se Io qua Ho costo Tre Quattro L'abilità Speciale Del direttore Del buon direttore Orson Gli da un Dieci per cento In più Di ricarica Dell'energia Quindi è come Se questo Tre Quattro Fosse Un tre E uno Ciò è molto Figo E quando Il tre Sette Lo fa diventare Un tre Quattro Quindi Diciamo Io attualmente Questo è il mazzo Che forse Sto usando Di più Perché è quello Che mi trovo Meglio Perché riesco A Diciamo A mettere in campo Un sacco di unità Ho un sacco di danno Aoe E comunque Anche quando si tratta Di danno Di danno Singolo Diciamo che Il veicolo Leggero Ma anche Comunque Il leader Dello squadrone Della morte Fanno il loro dovere Inoltre Con i due Qui Diciamo Questo qui È un mazzo Dove incomincio A usare Delle unità Melee Gli spadaccini Questi qua Sono Sono anche Questi Un devasto Perché Contro Molte unità Di quelle Che mi possono Dar fastidio Specialmente Il carro armato Leggero Dell'alleanza Fanno il macello Fanno il disastro E quindi È così Ovviamente Lo stun C'è sempre Anche qui Perché Serve sempre Uno stun In un modo O nell'altro E quindi Parlando sempre Di stun Andiamo all'ultimo Mazzo Che è quello Con Dark Vader Dark Vader Con la dottoressa Afra Perché Serve lei Perché lei Stunna Perché lei Lancia una granata Che stordisce Il nemico Quindi diciamo Il vostro stun E lei Però voi potete dire Eh sì Però non è uno stun Mirato Non vado a colpire Proprio il punto Che voglio io Quindi Diciamo che Questa cosa qui Viene compensata Dall'abilità Di Dark Vader Che è questa Che è il trascinamento Cioè Quello Dove tirate verso di voi I nemici Davanti a voi Riuscendo Diciamo A giocarvela bene Con Dark Vader Ve li tirate Verso di voi Mentre schierate La buonissima La buonissima Dottoressa Afra E farete un macello Quindi senza Nessunissimo problema Poi Anche qui Diciamo Doppio Diciamo Un doppio tank C'è dentro Dentro questo mazzo Perché poi Le altre carte Sono comunque Di costo basso Qui come AOE Ho deciso Utilizzavo La granata Quella Quella velenosa Che perché Fa Fa abbastanza Danno Diciamo E' un po' Come la Mina Ioni Dell'alleanza E' un po' Più malefica Perché il danno E' benefico Che risate Scusa Ogni tanto divago Con queste Cazzate Però Diciamo Che come Come AOE E' ottima Che poi ovviamente Utilizzata anche lì Con L'abilità Di Dark Vader Il suo stun E varie cose Si possono fare Un sacco Di danni E quindi Riuscire a liberare La strada Molto bene Qua anche qua Ritrovo gli spadaccini Perché Dico Per me sono fortissimi Dal lato Lato scuro Per me L'unità mele Più forte Sono loro Anche se adesso Hanno messo Questi Qui Come comune Gli assaltatori No Però Per me Io Ho sempre Preferito Gli spadaccini Sempre Sono molto più forti Sono solo in due Ma fanno un sacco Di danno E Diciamo Poi vabbè Ci sono i classici assaltatori Che quelli lì Bene o male Ci sono un po' Un po' Come ho detto Dappertutto Allora Diciamo Questi qua Sono i quattro mazzi Che Io attualmente Sto utilizzando Come vi dico Il mio consiglio è sempre Cercate di rimanere Tra il 3-1 E il 3-6 Di consumo L'unico personaggio Che attualmente Io trovo Che almeno Che utilizzo io Che possa superare Questo limite Ma Di poco Non è che perché Arrivare a consumo Di energia 4 È veramente un suicidio È il direttore Orson Perché lui comunque Ha Nella sua abilità L'energia Si ricarica Più del 10% Più veloce E quindi Vi aiuterà E quindi Io vi lascio così Se vi è piaciuto il video Mettete mi piace Se voi La vedete in maniera diversa Da me La pensate in altre maniere Su come utilizzare magari I personaggi Oppure Piuttosto come Come fare un deck Se avete anche consigli Su deck Che magari io non ho Diciamo che Io di personaggi Li ho quasi tutti Me ne mancano pochi Da avere Sia da una parte Che dall'altra Perciò Se avete qualche idea Qualche suggerimento Io sono Aperto a nuove Ed emozionanti Avventure In questo Favoloso gioco Perciò Come ho detto Mettetevi piace Iscrivetevi Al canale Ci vediamo Alla prossima E ciao ciao Ciao